Avete mai pensato a come scorrono veloci le nostre vite? Ogni mese andiamo a lavorare per guadagnare soldi, molti dei quali spendiamo per comprare computer, tablet, cellulari, fax, automobili, biglietti aerei, forni a microonde, pasti veloci, tutti prodotti e servizi che dovrebbero farci risparmiare tempo. E invece ci rendono ancora più dipendenti dal lavoro. Facciamo fatica a stare a galla, fra bollette e pagamenti d'auto, case, titoli, azioni, vestiti alla moda e altre possessioni materiali che schiavizzano il nostro corpo e la nostra mente e ci tengono in debito costante. La gente pensa di possedere le cose, la verità è che le cose hanno cominciato a possedere la gente. Oggi sembriamo sempre di corsa, non abbiamo tempo per pensare alle nostre vite, per godere delle cose belle che ci circondano. Forse è necessario staccare la spina, fermarsi un attimo per riflettere, magari partire per un viaggio per vedere se là fuori esistono posti migliori, persone, iniziative, sistemi di vita diversi che le televisioni non ci raccontano.